Ciao ragazzi, allora domani è l'ultimo giorno, è il grandissimo giorno che vado a fare l'ultima visita all'ospedale per il piede e nulla, è l'ultimo giorno, quindi speriamo che vada tutto bene, speriamo che sia tutto a posto A presto Non riesco a camminare, riesco a stare così, riesco a fare lo squat, riesco a saltellare un pochino con entrambi i piedi Ho dolore muscolare perché i muscoli si devono riprendere, devono ricominciare a attivarsi, cioè devono rientrare nel gioco del parkour, nel gioco del movimento Il piede riesco a muoverlo già molto meglio nello scorso a piedi, riesco a piegare le dita molto più in là Ah, ma si è un bici, è molto male Ah, ma si è un bici, è un bici, è un bici In grado di appoggiare molto peso sul mio piede perché i muscoli non sono pronti, ho ancora un po' Un po' di paura sinceramente Però riesco già a appoggiarli in terra, a camminarci, a tutto, ma a saltarci ancora Però Seguite le mie storie su Instagram per vedere come andrà domani e non vedo l'ora di riniziare Grazie 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 Grazie